La mia dolce mattina, il mio dolce risveglia inizia con la sveglia che comincia a suonare e poi appena lo aspetta inizia a guardare un po' Instagram guardo un po' le mie foto, metto qualche like, guardo i commenti, guardo YouTube, guardo un po' tutto come messo followers like A un certo punto dico vado a lavarmi il viso perché sennò buonanotte mi faccio una crocchia, una crocchia provvisoria perché è molto scheravantata tutto qui e beh vado a risistemare il letto Appena ho finito mi metto di nuovo le ciabatte e vado a fare una buonissima colazione La maggior parte delle mie colazioni sono latte e cereali e la cosa più importante che faccio ogni mattina prima di fare il primo pasto giornaliero bevo un bicchier d'acqua Appena ho finito la colazione vado a lavarmi i denti perché sono davvero molto importanti i denti, mi raccomando lavateli perfetti Appena ho finito vado di nuovo in camera e diciamo mi vado a scegliere qualche vestito e come vedete oggi dato che vado in vacanza mi sono messa questo outfit Appena ho fatto, appena me lo sono messo vado a preparare un po' di cose per la vacanza e perciò mi metto anche un burro cacao fatto da me questo qui e ragazzi vedete che è la Lucio's Lip Balm vi dico è bellissimo poi brilla c'è un burro cacao bellissimo lo metto dentro la borsettina preparo tutto, metto tutto dentro preparo tutto, metto le bolle prendo le bambole e poi mi metto uno scicosissimo cappello prendo la baligia e ciao 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 e buone vacanze bene ragazzi questa è la mia morning routine iscriviti al canale youtube charlotte.games su instagram mi chiamo charlotte-m-29 perciò ragazzi ciao ciao